È stata una partita un po' strana, secondo me caratterizzata da tanti errori, soprattutto da parte loro ma anche un po' troppo da parte nostra. Dobbiamo imparare un po' a gestire queste situazioni, abbiamo sbagliato tanto in battuta, anche se l'obiettivo è di forzare, quindi qualche errore in più ci può stare. Però stiamo consolidando un buon gioco, è importante prendere continuità in vista dei play-off. Sì, assolutamente, siamo concentrate qua, ci stiamo allenando tantissimo, non eravamo più abituate con tutti i turni infrasettimanali, per cui abbiamo modo di concentrarci su di noi, sulle nostre cose e questo sicuramente ci aiuta a lavorare bene. Detto questo, adesso il nostro obiettivo è provare a finire il campionato a pieni punti e poi vedremo, più o meno gli incroci sembrano fatti, ma penso che fino all'ultima giornata non si saprà al 100%. Grazie a tutti.